Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestins, parleremo a breve di emergenza coronavirus, ci sono i dati ultimi sulla situazione in Emilia Romagna e nel Ferrarese, ma poi in questa edizione parleremo anche di cronaca, c'è stata una maxi operazione contro lo spaccio di droga e poi vedremo anche le immagini del convegno che si è tenuto questa mattina, molto importante, sulla giornata del creato a Bonifiche Ferraresi e vedremo anche le immagini di ieri di Miss Italia che è sbarcata a Copparo e poi ancora Spal per andare un po' dentro diciamo l'opera d'arte che è stata fatta al centro GB Fabri di Via Copparo, il murales che rappresenta i volti storici dei bianco-azzurri, ma come abbiamo detto partiamo dai casi da Covid, sono 14 quelli in più rispetto a ieri nel Ferrarese la metà, 7 hanno sintomi da Covid e questi sono stati scovati diciamo così con 465 tamponi refertati venerdì erano 4 nuovi casi positivi in più rispetto al giorno prima e giovedì praticamente gli stessi di oggi erano 13, quasi tutti i casi nuovi nel Ferrarese provengono da Argenta e dalla città, uno invece dal Comacchiese e c'è anche un nuovo ricovero in ospedale a Cona l'aggiornamento invece in Emilia Romagna dimostra circa le stesse tendenze della curva epidemiologica nel Ferrarese su oltre 10.000 tamponi, 134 i nuovi positivi di cui circa la metà, 72 sono senza sintomi e sempre rimanendo in Regione, 41 i casi di rientro dall'estero dei nuovi positivi, 16 invece da altre Regione un decesso purtroppo per complicazioni apportate da Covid registrato a Reggio Emilia e in Regione ci sono tanti test a tappeto che si stanno facendo tra il personale scolastico visto l'imminente inizio delle lezioni, più di 25.000 i test serologici già effettuati in tutta la Regione a docenti ma non solo, quasi tutti, il 97% di loro sono negativi, pochi positivi e solo due le persone che al momento nel personale scolastico emiliano-romagnolo hanno il coronavirus Solo due positivi al tampone su oltre 25.000 test serologici già effettuati in Emilia Romagna al personale scolastico è il primo dato che emerge dalla campagna volontaria di screening voluta dalla Regione per garantire la ripartenza della scuola ma anche dei nidi e delle materne nella massima sicurezza possibile Da Piacenza a Rimini, passando per Ferrara, sono esattamente 25.345 i test a cui hanno voluto sottoporsi dirigenti scolastici, docenti, educatori, ausiliari e personale amministrativo nelle scuole anche di infanzia e dei servizi educativi 0-3 anni nel 97% dei casi erano negativi Le 736 persone, risultate positive, equivalenti a una percentuale del 2,9%, sono state sottoposte a tampone di verifica da cui è emersa la positività appunto in due casi a Reggio Emilia e a Bologna La campagna cura delle aziende USL coordinata dalla Regione con la collaborazione dei medici di base dell'ufficio scolastico regionale è partita il 24 agosto scorso e nel Ferrarese continuerà anche la prossima settimana Cronaca, adesso la Polizia di Stato ha scoperto un'importante rete di spaccio di droga a Ferrara intanto i carabinieri ieri hanno effettuato un controllo straordinario in GAD Sentiamo Quattro corrieri della droga arrestati durante il trasporto della sostanza stupefacente verso Ferrara 18 indagati e 8 mesi di indagini supportate da intercettazioni telefoniche e monitoraggi GPS Questo è il bilancio dell'operazione Wall Street Border che nell'ultima settimana di agosto ha portato la squadra mobile con il coordinamento del sostituto procuratore Andrea Maggioni a terminare con questi numeri un'articolata attività partita indagando i pusher di strada fino ad arrivare ai grossisti della droga, marijuana, cocaina e teroina gestita da cittadini di origine nigeriana Si spacciava in tutta la città ma il territorio era stato diviso in due zone una gestita da tre fornitori tra via Bologna e via Beethoven quartier generale in un appartamento di via Gandini una seconda zona tra Barco e Ponte Lagoscuro con quartier generale in via Bruno Buozzi ma rifornivano anche gli spacciatori del GAD Proprio qui, venerdì pomeriggio, in particolare nel parco di via Monti Perticari i carabinieri sono intervenuti in forze per una serie di controlli che hanno portato a denunciare due persone per inontemperanza al foglio di via obbligatorio Trovate anche tre persone, tutte italiane, tra cui una donna con in tasca una piccola quantità di droga Tutti e tre sono stati segnalati alla prefettura E oggi il tenente colonnello Marco De Martino comandante del reparto operativo del comando provinciale carabinieri di Ferrara ha salutato la città per assumere un incarico analogo al comando dell'arma di Terni In questa foto lo vediamo alla sinistra del prefetto di Ferrara pochi giorni fa quindi alla vostra destra De Martino durante questi quattro anni e poco più di servizio nella città estense ha detto che sono state moltissime le attività di polizia giudiziaria e De Martino ha ringraziato chiunque abbia collaborato a mantenere sicura la città Ferrara che ha detto mi ha arricchito umanamente regalato meravigliosi ricordi da portare con me ha poi aggiunto De Martino E adesso però parliamo di ambiente e agricoltura perché vanno di pari passo ovviamente per questo in occasione della quindicesima giornata nazionale della custodia del creato oggi e domani nel Ferrarese si tengono due eventi di livello nazionale domenica nella concattedrale di Comacchio la Santa Messa in diretta a TV nazionale oggi invece nell'azienda agricola Bonifiche Ferrarese a Iolanda di Savoia si è tenuto un importante convegno il primo di questo tipo in un'azienda agricola organizzato dalla CEI, da Bonifiche Ferraresi e da Coldiretti ci si è interrogati sui nuovi stili di vita da adottare per difendere l'ambiente in particolare partendo dall'agricoltura che è il primo settore che subisce gli effetti dei cambiamenti climatici questa è la grande riflessione come stiamo celebrando la quindicesima giornata quindi il quindicesimo anno quindi la CEI da ben 15 anni in realtà si sta prendendo cura di queste tematiche che sono estremamente attuali, estremamente moderne la Commissione Europea ha appena varato la strategia del Green Deal quindi questo progetto che deve vedere tutte le attività produttive quindi non solo agricoltura ma anche industria e commercio la parte civile, l'utilizzo delle energie entro il 2050 ha sostenibilità totale tutto questo si ripercuote nel mondo agricolo con quello che è stato battezzato il Farm to Fork quindi una strategia di produzione di cibo ecosostenibile ed ecocompatibile e come impatta tutto questo con l'agricoltura e l'essere azienda agricola l'agricoltura è il comparto dove da subito i cambiamenti climatici hanno un effetto e gli agricoltori sono i veri custodi del territorio un nuovo modo di fare agricoltura può essere un grande contributo alla sostenibilità con ad esempio le nuove tecnologie, la digitalizzazione se noi pensiamo a Recovery Fund, quindi alle nuove politiche per lo sviluppo e la crescita del nostro paese le nuove tecnologie sono viste come uno strumento a disposizione del mondo agricolo per produrre non solo bene e non solo meglio ma anche in un modo ecocompatibile siamo qui a Boniche Ferraresi dove l'agricoltura 4.0 è assolutamente il modello italiano quindi guardiamo al passato ma con un presente che ha davanti un grande futuro sarà una grande nuova stagione dell'agricoltura e ovviamente col Diaretti che è la portatrice di interesse non solo del mondo degli agricoltori ma dell'intera società su questi temi giocherà il suo ruolo a livello nazionale Ci lasciamo le spalle un'estate dal punto di vista agricolo di che tipo? Sono buoni i primi bilanci che avete fatto? Sì, è stata un'annata particolare già a partire dalla primavera dove una forte siccità aveva creato i primi problemi ma non solo, successivamente anche il gelo e la brina nelle culture frutticole aveva creato già una grossa quantità di danni è chiaro che oggi ci apprestiamo alla raccolta dei prodotti e vediamo, cominciamo a avere le prime problematiche una fra tanti, mi sento di citare nel fruttetto special modo sulla perabate il problema del marciume calicino che in questi giorni sta affliggendo le nostre aziende che vediamo in quantità che sta crescendo è chiaro che qui lo spazio va riservato nel prossimo futuro alla ricerca noi abbiamo necessità di fare un punto della situazione di capire come parare questa problematica sicuramente vorranno messe in campo anche tematiche che in passato avevamo caratterizzato questa cultura e che oggi abbiamo abbandonato e quindi qui mi faccio riferimento alla luminosità dei fruttetti allo spazio dovuto però tutto questo diciamo che la giusta risposta sarà la ricerca che nel prossimo futuro dovrà darci un'annata dicevo appunto un po' problematica non solo nel fruttetto ma anche dal punto di vista dei cereali il grano diciamo non ha dato il massimo delle produzioni perché purtroppo come dicevo una primavera siccitosa ha provocato i primi danni per quel che riguarda le culture che stiamo raccogliendo in questo momento quindi mi rifaccio sempre ai cereali e all'ortofrutta i cereali stiamo raccogliendo sorgo e mais i primi quantitativi di mais ci sono a macchie delle bardo delle realtà che sono positive ma purtroppo quella siccità che abbiamo avuto e chi non ha potuto irrigare diciamo ha creato le prime problematiche siamo all'inizio io sono speranzoso di tutto questo che si possa avere un buon esito positivo le culture come il pomodoro mi sembra aver capito che le zone avvantaggiate perché fanno una giusta rotazione stia dando dei buoni esiti grande successo ieri per le selezioni regionali di Miss Italia in piazza della Libertà a Copparo è bianca parente Miss Copparo 2020 ha conquistato così l'ambita fascia al termine della selezione regionale del concorso nazionale di Miss Italia organizzato dal comune di Copparo che appunto in piazza della Libertà ha riscosso molto successo il sindaco Fabrizio Pagnoni ha aperto l'evento e ha sottolineato come il 73esimo settembre copparese si sia aperto alla grande ma sentiamo come è andata la serata direttamente dalla voce degli organizzatori sono molto contento di venire a Copparo perché era da tantissimi anni che non si faceva Miss Italia e tra l'altro con il comune questa iniziativa era partita già a gennaio con la previsione di farla a luglio poi naturalmente sappiamo tutti i motivi la pandemia e il lockdown ci ha portato così un attimino in stand by il concorso è ripartito ai primi di agosto e questa è la prima tappa che apre il settembre copparese e che apre un po' anche la stagione di Miss Italia nel ferrarese visto che quest'anno la prima tappa è qua questa sera dove si eleggerà Miss Copparo oggi le ragazze sono state in giro con le vespe con le auto di Ghedini hanno fatto una tappa in piscina dove c'è stato un casting proprio qua alla piscina di Copparo poi siamo stati alla palestra WellFit e siamo arrivati qua in piazza verso le 18 e 15 dove hanno potuto le ragazze godere di aperitivi offerti dai 5 bar che si affacciano qua alla piazza ci sono assolutamente diverse ragazze di Copparo e della provincia di Ferrara molte delle quali si sono presentate al casting di oggi pomeriggio in quanto debuttanti alcune sono state selezionate ma siccome dovevamo raggiungere un numero massimo di 23-24 per il discorso anche di distanziamento e dei quadri moda alcune di loro hanno preso parte al cast di oggi altre saranno invitate alle prossime tappe quest'anno siamo ancora all'inizio il concorso è appena partito gli altri anni in questi giorni eravamo a Jesolo quest'anno siamo appena alle prime selezioni per cui continueremo per tutto il mese di settembre, ottobre fino ad arrivare a dicembre quando ci saranno le finali nazionali data e luogo ancora diciamo top secret comunque dicembre oggi una grande apertura con le selezioni di Miss Italia regionali e le lezioni di Miss Copparo quindi abbiamo deciso di aprire in grande stile su Copparo la prima esperienza di Miss Italia continueremo con una mostra culturale dedicata a Enzo Nenci con una mostra scultorea nella galleria Aldacosta del comune di Copparo continueremo domenica con il nostro mercato del Forte dei Marmi ormai è arrivato alla terza edizione a Copparo per poi continuare per tutti i weekend di settembre sarà una rassegna all'insegna dello spettacolo e del food quindi ospiteremo per il primo anno il food village di Copparo che inizierà il 17 settembre continuerà per tutti i weekend fino a chiudersi al 27 di settembre quindi ospiteremo musica e spettacoli sul nostro palco sotto la residenza comunale e diversi gazebo di somministrazione quest'anno è un'edizione che abbiamo voluto un po' sfidare all'insegna quindi del cibo e della musica ma comunque riproponendo i nostri spettacoli di strada l'animazione commerciale delle nostre vie del centro è un progetto ambizioso che quest'anno nonostante il covid abbiamo deciso di proporre in collaborazione con le associazioni e con le aziende del nostro territorio che ci supportano ogni anno nella promozione dei nostri eventi quindi cominceremo con gli spettacoli il 17 dove avremo il concerto della Varus e Zamboni nella nostra scuola di musica di Copparo per proseguire il 18 con il bus itinerante quindi un bus di un gruppo musicale che girerà non solo per il centro di Copparo ma anche per le frazioni perché quest'anno cercheremo di interessare anche i territori che non sono più centrali di Copparo ma che sono i territori frazionali per poi spostarci al weekend al nucleo centrale della fiera che sarà dal 24 al 27 in questi 4 giorni saranno dei 4 giorni molto ricchi quindi avremo musica, spettacolo, animazione di strada i nostri commercianti che come al solito si dimostrano molto disponibili quindi sfilate, concerti, DJ set e la presenza appunto delle nostre associazioni e dei nostri operatori commerciali quest'anno nonostante l'emergenza covid abbiamo deciso di proporre questi eventi per le vie non solo centrali ma quindi anche per le vie del nostro centro e speriamo che sia un'esperienza ricca di soddisfazione e di partecipazione Sport adesso SPAL tolti i veli alle nuove divise bianco-azzurre al murales le nostre radici al centro sportivo GB Fabri di Via Copparo dove giovedì si è tenuto un evento speciale qui Alessandro Sovrani ha intervistato anche due dei tre delle tre persone che vedete nei murales ovvero Massei e Boldrini Floccheri è il terzo a destra ma sentiamo le interviste Oscar Massei è sempre bello rivederti, ritrovarti ma ti ritroveremo in eterno su questo murales no, è una cosa veramente che mi ha sorpreso perché è bellissimo io non so chi è che lo ha disegnato certamente ha fatto dei ritocchi a fare delle figure così belle e questo ci riempie di gioia ma più che tutto è venire qua e ritrovarmi con le sportive che è la che conta maggiormente Ferrara e la squadra per te sono state una seconda famiglia esatto direi non la prima ma sicuramente la seconda Ferrara da quando sono arrivato praticamente mi ha accolto con le braccia aperte e ho ricambiato con la serietà e con le prestazioni che abbiamo sempre dato e questo oggi mi rende veramente felice di rivedere tutta questa gente io spero che per il prossimo anno la squadra riparta di nuovo con la forza che ha avuto sempre una squadra corsara e sempre in condizione di raggiungere i maggiori obiettivi guardare al futuro con ottimismo con ottimismo è tutto lì abbiamo visto un Giulio Boldini particolarmente emozionato questa sera forse nemmeno quando affrontavi l'Inter il Milan da Juventus in questo stato d'animo non me l'aspettavo è una cosa bellissima non ho neanche parole non so cosa dire tu sei il recordman di presenza con la maglia della spalla recordman e anche di attività di anni 11 anni in più 288 per la precisione più dopo la Coppa Italia e tutta quella roba lì perché ho vinto anche una Coppa Europea e c'ero io hai vinto anche il campionato di Serie B come si fa a vincere il campionato di Serie B dopo una retrocessione? è dura perché il campionato è molto tosto in B non sembra ma ci sono delle squadre e ci vuole un po' di fortuna e anche la squadra speriamo quest'anno basta che partano bene penso che ce la facciano sono giocatori con la tua grinta Giulio personalmente ricordo un episodio un Mantua Spall che tu hai portato a termine con una frattura sì ce l'ho ancora qua io dopo un quarto d'ora mi sentivo male però non sapevo di avere la frattura e ho giocato per un'ora anzi mi facevano allora i rinvii li facevano non i portieri facciamo noi anzi io il libero con la caviglia rotta che a lunedì sono venuto allo stadio allora ho fatto ma va a fare una lastra sono andato dal dottore mi ha fatto una lastra e mi ha detto qui c'è una doppia frattura a un malleolo infatti mi ha subito ingessato sono stato fermo ho perso le ultime tre partite che dopo siamo retrocessi purtroppo Giulio ci vorrebbero 11 leoni così come dice il presidente con il tuo carattere il tuo spirito il tuo attaccamento anche alla maglia spallina sì è quello senz'altro perché una volta che sono entrato in squadra non volevo più muovarla e ci mettevo tutto quello che avevo parliamo adesso di eventi in attesa della riapertura delle scuole nell'ambito di Ponte in Festa lunedì sera con inizio alle ore 21 nell'area degli incontri si terrà un evento fortemente voluto dagli organizzatori per cercare di fare chiarezza sulle notizie che passano sui media a proposito appunto di ritorno a scuola ad esempio per gli studenti dell'Ateneo Estense si prevede una doppia modalità di avvio dell'anno accademico con lezioni online secondo l'esperienza durante collaudata durante il lockdown della didattica a distanza incontri anche con i docenti in presenza di tutto questo e di altro si parlerà lunedì sera interverranno la professoressa Lia Bazzanini che è dirigente del liceo Carducci di Ferrara e anche il professore Alberto Cavazzini direttore del dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche di Unife e anche Cristina Corazzari che è dirigente scolastica dell'istituto complessivo Cosmetura di Ponte Rago Scuro e infine sarà intervistato anche Roberto Giovannetti dirigente scolastico del liceo scientifico Roiti a condurre l'incontro sarà Daglia Bighinati direttore del Tg di Telestense e quindi l'appuntamento lunedì sera alle ore 21 per parlare di scuola a Ponte Rago Scuro con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del telegiornale vi ricordo telestense.it e i profili social grazie per l'attenzione a Ponte Rago Scuro